questi traguardi e la voglia che hanno ancora di andare avanti, di giocare a certi livelli perché la gente certe volte non capisce che bisogna sacrificarsi per tenere questa condizione Marco, Marcello Lippi si è guardato questa premiazione con un affetto aveva degli occhi particolarmente languidi nei confronti di uno dei suoi pupilli forse con Inler, il tocco in direzione di Frey, uno dei giocatori simbolo della nazionale del calcio tedesco e non solo, militano in connesso ha avuto coraggio Isler perché ha messo in mezzo al campo Gelson che ha passato un'annata incredibilmente negativa è stata offerta a tutti anche in prestito e non trovava una squadra adesso è andato a Saint-Etienne in direzione di Inler, parte il traversone e con il fisico Frey si è fatto largo fra Cannavaro e Zambrotti Inler mantiene la posizione, Crescito ma si fa beffare da Padalino quindi arriva Cannavaro senza fronte, l'impalla, il pallo laterale stringe intanto Frey ci è arrivato Cannavaro lo assiste Barnetta quindi Cannavaro arriva anche Senderos prova lo stacco la deviazione di Cannavaro in calcio d'arco eccolo qui Filippo Senderos madre serba, padre sembrava veramente lanciato una grandissima carriera è stato Breccia da Di Breda e adesso Salisburgo ma in dischiesa anche se giovanissimo sempre 0-0 qui a Basilea